Buonasera, e quale migliore atmosfera per continuare questa carellata di film horror, se non usare le musiche horror di Teo Teardo, che sono la colonna sonora di questa giornata, che vi ricordo è partita questa mattina, che si concluderà a notte fonda, sono sette film di paura che ci accompagneranno in questa undicesima edizione del Faris Film Festival. Una parte consistente di questi film è occupata chiaramente dall'Indonesia, l'abbiamo detto più volte, l'Indonesia quest'anno è presente al Faris con ben sei film, l'Indonesia è un paese di 150 milioni di abitanti, ha prodotto nell'ultima stagione cinematografica quasi 100 film, per cui ovviamente non poteva essere ignorata dal Faris Film Festival, è una nazione che è specializzata nell'horror e noi abbiamo qui quelli che sono i più promettenti registi e sceneggiatori, attori e attrici di questa cinematografia. Io partirei subito portando e chiamando sul palco colui che abbiamo già conosciuto l'anno scorso, quando abbiamo mostrato il primo film indonesiano, una storia del Faris, è regista, sceneggiatore, è qui per due film, cioè il film che vedremo ora e il film fiction che vedremo domani all'interno del programma, è una sorta di guru perché conosce tutti, amico di tutti e segna proprio le sorti del cinema indonesiano, è Gioco Anvar. Assieme a Gioco Anvar abbiamo anche i due interpreti di Forbidden Door, io partirei subito con Paolo Bertolini che ci aiuta questa serata con le presentazioni, quindi annunciamo i due attori. Marsha Timothy e Fakri Albar. I due bellissimi del cinema di Jakarta hanno già lavorato con gioco, quindi io partirei subito con gioco. Andrei, would you like to introduce your movie? Non parlo italiano. I came here to Udine last year to bring my film, the film that I wrote and I promised myself that I had to come back this year because this is one great film festival of the world and I really love it. All great people, great audience. It's my favorite. I promised myself to make a film so I can come back here. And thankfully all the great people from Udine accepted my film this year and this film that I directed is my third film. It's a film that we made with love. We didn't get paid, do we? Oh, we did, but not much. It's a thriller basically. Even though it's put in a horror day in Udine, a far east film festival, but it's not a horror, it's a thriller. I hope you'll enjoy it. It has everything. Yes, and my actor said, please stay until the very end of the ending credits because that's when the movie really stops. Yes. Yes. Thank you very much. And so it would be nice if also Fakri and Marsha say something about the film, especially since this is a very, you will see it very extreme and particular film. if they would say something about the experience of working on this film. I don't know. I don't know what to say. I'm very nervous. It's so big in here and everyone's in here. I'm surprised. Oh, amazing. I hope you enjoy the movie. Like Joko said, please watch until the very end of the movie. Okay, and then I hope you enjoy it. I love you guys. I don't know what to say. Yes, I am nervous too, but all I want to say is just thank you. Thank you and enjoy the movie. Thank you. Thank you. I would like to say this point. I would like to make a love statement to the Indonesian guests because we really love them. We love them both on screen and on live. So thank you Joko or Na. We love you really. We love you. We love you. Forbidden Door, a psycho thriller that also gives homage to David Lynch, opera of Jokong Vlar. We thank Fracky Albar and thank you Masha Timothy. Thank you very much. There's a little gift. There's a little gift for you. There's a little gift for you. There's a little gift for you. Careful, there are thorns. Thank you very much to our guests. Please take your seat. We will go ahead with the screening. and buona visione a tutti. Thank you. .